È così buono che a volte non aspetto nemmeno che il pane sia duro, in realtà lo acquisto e poi lo preparo così. Lo faccio soprattutto quando a cena, non ho molto tempo per preparare e ho i nipotini che hanno tantissima fame. Questa è una perfetta idea riciclo, in cucina non si butta niente, men che meno il pane. E quando non riusciamo a consumarlo in giornate, magari si fa un po' più asciutto e duro, ecco che possiamo trasformarlo in pizzette. Ci serve solamente del pane raffermo, della passata di pomodoro, mozzarella per pizza, origano e basilico per dare un buon profumo, sale e olio di oliva. Io taglio il mio filoncino a fette spesse di circa un centimetro e mezzo. Quando è davvero molto asciutto lo passo velocemente nel latte o nell'acqua. Procedo subito condendo la passata di pomodoro. Quindi in ciotola salsa, un pizzico di sale, olio di oliva e tanto origano. Distribuisco su ogni fetta questo condimento e sistemo tutto su una teglia. Metto il pane pizza in forno con modalità grill a 200 gradi, ma va bene anche la modalità ventilata, per pochi minuti, 7-8 all'incirca. In questo modo diamo alla salsa il tempo di cuocere e al pane di diventare croccante. Dopodiché riprendo la mia teglia, aggiungo mozzarella a dadini e qualche foglia di basilico. Rimetto in forno per 2-3 minuti solo il tempo di sciogliere il formaggio. Ed eccolo pronto da portare a tavola per fare tutti contenti. Scrivete nei commenti come vi piace riciclare il pane. Realizzando magari delle polpette o perché no? Addirittura dei dolci. Aspetto le vostre idee e vi aspetto anche sui nostri siti cibodoc.it e vivomangiando.it con tante altre ricette.